Allora, io impersonerò Mangiafuoco come personaggio principale e poi sarò il direttore del circo, nonché padrone e proprietario del paese dei balocchi. Il personaggio di Mangiafuoco, diciamo che me lo sento cucito addosso, perché in effetti anche nella vita normale sono un burbero, a volte esagero anche gridando, però poi in fondo sono un buonaccione. Magari non mi viene il colpo di tussa, però sono un buonaccione. Come invece per entrare nel personaggio del direttore del circo ho lavorato un po' di più perché il direttore del circo è proprio un cattivo, è quello che poi vorrebbe far diventare Pinocchio un tamburo e il suo amico Lucignolo, una svegliamo tutto, una mortadella. Per entrare nel personaggio di Mangiafuoco il lavoro più duro sarà quello di farmi crescere la barba, non so se ci riuscirò fino a domenica, però tenterò, solo sulla buona strada. È stato molto facile perché grazie a Katia, insomma, che ti mette a tuo agio, ti rende molto facile il lavoro di preparazione. Appuntamento, vediamo se mi ricordo, sarà a partita domenica, primo spettacolo 17.30, secondo spettacolo ore 19.30, più o meno. Adesso mezz'ora più, mezz'ora meno. E poi 25.00 replicheremo alle ore 18.30. Alla prossima! Alla prossima!